Un'edizione davvero speciale con grandi star italiani internazionali che tornano sull'isola. Sono particolarmente orgoglioso dell'arrivo del maestro Bellocchio che col film Il Traditore quest'anno è il serio candidato italiano all'Oscar e insieme a lui un altro grande italiano, Albano, che con Bob Geldof rappresenteranno la musica. Bob Geldof, una leggenda vivente per aver fondato sia il Band Aid sia il Live Aid e poi ancora tantissimi giovani come per esempio Alex Wolff che lo scorso anno è venuto per prima volta il fratello Nat, quest'anno torna con un film d'apertura. E poi sempre con grande gioia annunciamo l'arrivo oggi di Nick Vallelonga, la persona che ha reso possibile il film dell'anno ovvero Green Book premiato all'Oscar, Nick Vallelonga sceneggiatore di origine italiana, americana a tutti gli effetti verrà a prendere il premio Truman Capote insieme a Decataldo, quindi un festival ricco di grandi personalità italiane e internazionali a confermare ancora una volta che Ischia è l'isola della cultura, dello spettacolo e della solidarietà.